Nel periodo di Natale una settimana di sciopero della fame, una raccolta firme capace di trovare 6.200 adesioni contro il piano sanitario del commissario Filippo Basso che tra l'altro prevedeva anche la chiusura dell'emodinamica Termoli. Le firme le ha ricevute il Presidente della Repubblica che ha fatto sapere al prefetto di Campobasso di aver sensibilizzato il commissario Basso sul tema. Particolari rivelati da Liberato Di Felice, Presidente dell'Associazione Cuore Molisano, che ha anche spiegato come tutto sia stato inutile visto che poi il piano è stato approvato nel periodo di vacazio istituzionale, denunciando anche che l'ospedale Santimotio ha nemici al suo stesso interno. Il piano prevede 144 posti letto al Santimotio e 30 al Dietri di Larino, con un'utenza da soddisfare di 150.000 persone. Di Felice evidenziato come solo nel territorio intorno a Campobasso, tra il Cardarelli e le tre strutture private presenti, si arrivi a 611 posti letto, compresi quelli per la riabilitazione. Uno squilibrio assurdo è stato definito, con un accanimento verso il territorio del Basso Molise. Per questo l'associazione ora si è rivolta a un avvocato, il consigliere comunale Annibale Cerniello, che ha presentato una querela per verificare l'intera procedura, compresa la nomina di Basso. Un tecnico che non conosce il territorio, è stato detto, è chiamato a ridurre al minimo i servizi. Dalla lettura del piano sanitario abbiamo trovato una serie di incongruenze e vogliamo, diciamo, che la magistratura inquirente possa valutare e prendere ad esame tutto l'iter procedimentale nella redazione del piano sanitario che attualmente è al vaglio del Ministero. Dalla nomina del commissario Filippo Basso fino a quando non è stato ultimato il piano sanitario, rese esecutive ad essere al vaglio del Ministero per l'eventuale approvazione e poi attuazione. Vogliamo evitare con le unghie e con i denti che questo piano sanitario venga attuato nel territorio molisano, in particolare in quello basso molisano, perché ciò comporterebbe, secondo me, seri rischi a livello di salute della popolazione morisana. Critiche anche alla recente nomina del nuovo manager Carmine Ruta che sostituirà Angelo Percopo, il cui contratto scade a giugno del 2014. Per un anno dunque l'ASREM pagherà due stipendi e è stato ribadito con un ulteriore aggravio sulle tasche dei cittadini.